Alex Belli contro la moglie Delia Duran Questa sopopera non mi piace Grande fratello VIP Alex Belli Deluso da Delia Duran Questa sopopera non mi piace È diventata una vera e propria sopopera la storia tra Alex Belli e Delia Duran Il triangolo che si è formato con Soleil sorge al grande fratello VIP ha infatti fatto traballare le certezze della moglie dell'attore che È intervenuta più di una volta nel programma, bacchettando duramente la rivale Il risveglio, dopo la diretta di ieri sera, è stato all'insegna delle riflessioni per Alex Belli che Si è sfogato durante la colazione con Mirjana Trevisan e Katia Ricciarelli L'attore, che ieri ha parlato con il collaboratore amico Mirko Gancitano Ha raccontato di non aver gradito il modo con cui Delia Duran sta gestendo la situazione al GF VIP Questa sopopera a me non piace GF VIP, Alex Belli riprende la moglie Delia, devi proteggere altrimenti stai a casa Alex Belli ha proseguito il lungo sfogo di pochi minuti fa sottolineando, in riferimento alla moglie Delia Duran Deve venire qui a proteggere e a contenere e a gestire altrimenti è meglio che sta a casa Alex Belli si è poi rivolto direttamente alla consorte, dicendole Chiuditi dentro in studio con Mirko e Gwenda e stai là e quando esco ne parliamo Insomma, l'attore non ha gradito le intromissioni della moglie e le ha consigliato di pensare ad altro e distrarsi con il lavoro Alex Belli ha ammesso di aver parlato a lungo con la moglie prima dell'inizio del GF VIP 6 su un possibile suo intervento nel programma Alex Belli, retroscena su Delia Duran Prima di entrare al GF VIP l'avevo avvertita Senza peli sulla lingua Alex Belli, ferito da Adriana Volte ieri sera Ha raccontato ai suoi compagni di avventura che prima dell'inizio del grande fratello VIP 6 aveva avvertito Delia Duran che Non avrebbe gradito scenate di gelosia esagerate Le avevo detto che se mai fosse successo qualcosa doveva proteggere o sottrarsi Insomma, a detta dell'attore la moglie non avrebbe protetto il loro rapporto Lo sfogo dell'attore servirà a rasserenare gli animi Grazie a tutti